Musica Alla terza nel weekend si respira aria rinascimentale grazie all'associazione di volontariato, studio e ricerca storica sulle maioliche in terra d'Otranto, due serate all'insegna della manifestazione dedicata alle gesta del secondo marchese di la terza, Don Giovanni Battista D'Azia I e alla beffa del 1597. Tutto nasce dallo studio di un piatto in maiolica e storiato risalente alla prima metà del Seicento raffigurante una scena di caccia al cinghiale con falconieri, i cui protagonisti dopo un'attenta analisi dell'associazione ASRS e maiolica sono stati riconosciuti nel secondo marchese di la terza e nei suoi nobili amici. Don Giovanni Battista D'Azia primo infatti era solito invitare i nobili dei paesi limitrofi alle sue battute di caccia al cinghiale, che come rusanza di quel tempo si concludevano a Palazzo Marchesale con grandi banchetti conviviali accompagnati da intrattenimenti di musici e giocoglieri festeggiamenti che coinvolgevano il popolo del feudo di la terza. Da qui l'idea di organizzare una spettacolare rievocazione storica ambientata tra il XVI e il XVII secolo della caccia al cinghiale con falconiere giunta alla quarta edizione. Si tratta di un corteo e di una rievocazione storica di tipo rinascimento alle barocca e l'ideazione originaria della manifestazione comunque deriva dalla scoperta di un piatto in maiolica raffigurante una scena di caccia appunto legata al marchese e ai nobili che comunque accompagnavano il marchese durante le battute di caccia. Il perché del festeggiamento è proprio legato anche al valore che il marchese diede all'epoca sia tutto quello che fa da contorno all'avvenimento quindi la maiolica in sé tant'è vero che nello specifico ci saranno delle botteghe dove ci sarà anche la possibilità di interagire attivamente e esperienzialmente attraverso appunto la possibilità di creare vasi in maiolica decorativi e di produzione in generale e poi ci sarà anche la possibilità di degustare prodotti tipici dell'epoca barocca. Davvero suggestivo il corteo storico composto da destrieri 300 figuranti in costumi d'epoca e poi falconieri, cavalieri, balestrieri, arcieri, lancieri, guardie, famti, tamburini e trombettieri. Oltre al corteo storico diversi spettacoli di grandissimo interesse con gli sbandieratori di oria l'esibizione di falconeria con volatili rapaci quella di danza aerea su tessuto e trapezio e poi ancora le esibizioni di odalische incantatori di serpenti, mangiafuoco, fa chiro infine la dimostrazione di spari con fucili d'epoca a tromba dei fucilieri di cava dei terreni.